La messa è il sacrificio della croce che Gesù ha realizzato duemila anni fa per la nostra salvezza, reso presente in maniera mistica, in maniera sacramentare, sugli altari. Giovedì santo Gesù, prima di andare a morire per noi, istituisce la messa per rendere presente in anticipo il suo sacrificio sulla croce e ordinano i suoi apostoli sacerdoti, anche vescovi, in modo che possano trasmettere il sacerdozio cattolico così che la messa possa essere celebrata, che il suo sacrificio sulla croce possa essere reso presente sugli altari per trasmettere i frutti della redenzione.